Mentre un chirichetto confonde sacristia con carestia e muore di stenti durante la messa, mentre durante un'operazione molto delicata si formano gocce di sudore sulle ali di un angelo custode e non si sa se custode il chirurgo o del paziente, mentre alcune statuine del presepe si decidono e prendono la via del mare per una breve vacanza lontana dal muschio, mentre un pianista prende il coraggio a quattro mani e decide cioè di suonare con un altro pianista e un pompiere decide di dar fuoco a una casa per ritrovare una sua vecchia fiamma, mentre il rinoceronte sta sudando sette camicie per mettersene una sola e il terzo segreto di Fatima viene miracolosamente rivelata a un sordo e un tarlo agitato tutte le notti per dormire deve prendersi un tavolo, mentre Banca Neve entra in istituto di credito e grida a tutti Nani in alto! E in una maternità un signore sta per diventare zio e si fuma l'ultima sigaretta basso contenuto di nipotina e un neonato petomane innaffia la rosa dei venti, mentre finisce l'ossigeno a un subconscio e la donna dal destino capovolto scopre di soffrire di vagina pectoris e un pedone razzista attraversa la strada camminando solo sulle strisce bianche, mentre un postino maleducato mette le mani sulla patta e grida pacco, mentre un millesimo di secondo prima di un frontale tutti si accorgono anche di aver sbagliato strada, proprio in quel mentre mi rendo conto di una cosa fondamentale, che se un pollo guida un aereo può tranquillamente prendere fuoco un ala che lui comunque atterrerà sempre, o di coscia o di petto. È inaudito, lo so, ma è di inaudito che voglio parlare stasera, non si può continuare a parlare sempre di questo bisogna parlare di inaudito, di impensato, del mai detto, vogliamo parlarne? Parliamone. Vogliamo parlare dell'abnegazione di chi annega? Perché se ne parla così poco dell'inaudito, dello stirare sull'asse del water? Ne vogliamo parlare? Della fatica silenziosa dei ponti? Parliamone. Vogliamo parlare di riuscire a godere con un goniometro? Perché se ne parla così poco di quel militare di carriera che va in bagno con tutto il battaglione per ristabilire lo spirito di corpo? Vogliamo parlarne? È inaudito, lo so, ma dobbiamo farlo. Del sapere pascolare capri e spiatori? Ne vogliamo parlare? Delle centinaia e centinaia di metri di cavo orale? Perché non se ne parla mai? Del viaggio di sola andata ad un raggio di sole? Vogliamo parlare del pene parafulmine? Scherzo, utilità? Vogliamo parlarne? Del dolore del nano che vede crescere solo le unghie e i capelli? Abbiamo il coraggio di parlarne? Vogliamo parlare dell'odio che cove una gallina violenta? E del concetto anticoncezionale di spirale di violenza? Per non mettere in cinta una città ci vuole una spirale di violenza? Parliamone del lobby che aveva capitano Uncinetto. È inaudito, ma lo dobbiamo fare. Vogliamo parlare di quel citofono? Certo, di quel chirurgo che aveva questo citofono e il chirurgo che diceva giù al citofono, al malcapitato, sali, ti apro! Vogliamo parlare di cosa provò quel citofono e quel chirurgo? Parliamone. Vogliamo parlare del perché si vendono pochissime altalene da muro? Un motivo ci sarà. Vogliamo parlare dell'inventore delle lentigini che inventò le lentigini, ma anche puntini, 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 puntini. Perché? Vogliamo parlare di quel famoso libro che racconta la storia di una mano, ma si capisce il finale solo se si legge l'indice? Dobbiamo parlare di inaudito. E del rapporto complesso tra compasso e compassione? Cioè geometria della pena? Ne vogliamo parlare? Del rapporto tra oralità e sesso scritto? Affrontiamolo questo tema. E del rapporto tra agonia e agonismo? Muori prima tu? No, agonia o agonismo? Vogliamo parlare della stupidità di prendere una mandria a noleggio? Questa è la sera giusta. Vogliamo parlare della pericolosità di un passero con la nausea? Non lo prenderei sotto gamba. Vogliamo parlare di chi disse per la prima volta la frase fuori nomi e inventò i campanelli? Di questo e d'altro parleremo stasera. Parleremo di Mr. Green, che tutti chiamarono Mr. Paul, anche se il vero nome era Mr. Timothy. Lui aveva uno strano rapporto tra amore e morte. Con la moglie faceva l'amore, con la morte niente. Perché? Vogliamo parlarne? Del fatto che aveva un'amante fisicamente non bellissima e spesso soleva dire sto facendo l'amore con un colbacco o non ti depili dai tempi di David Crockett? Ne vogliamo parlare? Del suo cane che viveva una vita monacale dentro l'unica cuccia col campanile? Un cane che era medico perché diceva sempre sono di guardia, sono di guardia. Ne vogliamo parlare? Se posso usare qualcosa che c'è tra gonna e gamba, secondo me l'argomento calza. Ogni volta che lui passava con l'auto vicino a un passante pensava anche questa volta non l'ho ucciso. Ogni volta che tagliava qualcosa in cucina pensava anche questa volta non mi sono piantato il coltello in pancia. Ogni volta che scendeva di corso una scala pensava per fortuna non sono caduto battendo la testa e non sono ancora entrati in coma. Non sono ancora entrati in coma. Non è detto che se vado avanti a battere la testa, piantarmi coltello in pancia, alla fine poi non è che il coma sia chiuso dalle alle riapri lunedì per turno. Diciamo che per fortuna ci interessa il concetto di fortuna, dell'oggi a te, domani a te. Ne vogliamo parlare? Vogliamo parlare di reiterazione nel dolore? E se parlassimo di altruismo nel dolore? Perché devo soffrire solo io? Ma soffriamo un po' tutti. Vogliamo parlare di karma, di vita precedente? Ci interessa veramente? Lo che ci interessa veramente è sapere perché Mr. Frank, detto Mr. Paul, scrisse quanto segue su una porta. Lui scrisse, questo è un antitestamento, cioè non è quello che lascio se non torno, ma quello che voglio quando torno. Che è molto diverso se ci pensiamo, eh? Molto diverso. Quando torno voglio cambiare vita, così posso mettermi anche pantaloni di una taglia diversa. Quando torno voglio un aereo con due enormi orecchie al posto delle ali, praticamente voglio un dumbo jet. Voglio scherzare quando torno. Quando torno voglio un fratello solo e una sorella luna per divertirmi giorno e notte come San Francesco che parlava agli uccelli, stava zitto con i pesci e ripeteva tutto ai pappagalli. Quando torno e tornerò voglio anche un pappagallo che dica all'oretto e un altro che dica assisi. Voglio tutti i tipi di pappagalli quando torno. Quando torno voglio anche costruire un ospedale dove ci va chi non si è mai fatto niente. Lo voglio chiamare ospedale Grandilesi. Poi ne voglio costruire un altro di ospedale dove ci va soltanto chi crede ad essere amato e non lo è. Chi crede ad avere un sacco di soldi e non li ha. Chi crede ad essere il migliore e non lo è. L'ospedale Grandilusi. Pieno così adesso, pieno, pieno. Quando torno e tornerò voglio anche un cane da punta che temperi le matite quando lo dico io. Non solo durante il periodo di caccia. Voglio anche un bel paio di sì nuovi per annuire le matite sulla neve. Sì, sì, sì. Quando torno voglio diventare a tutti i costi amico di Alvaro per poter andare all'inaugurazione di una nave e poter dire così tanto per dire sono stato Alvaro con Alvaro. Era un gioco che volevo fare fin da piccolo. Quando torno voglio conoscere meglio i popoli, le genti, tutte le etnie, gli azzechi, i sumeri e già che ci sono anche gli stranzi, i ignoranti e i sfighiè. Quando torno voglio mettermi una benda sugli occhi e poter comprare e vedere tutte le cassette pirata che mi pare. Voglio libertà di visione quando torno. Quando torno voglio anche un pacemaker senza fili per telefonare tra me e me. Solo a chi mi sta veramente a cuore, quindi una comunicazione interiore. Quando torno voglio far piangere il mare calmo fino a farlo diventare un mare commosso, anche se le lacrime tra le onde e la schiuma non si distingueranno più. Ma soprattutto quando torno vorrei poter sporcare il coro delle voci bianche. Non ne posso più. Ma chi siete i coro delle voci bianche. Non dico una macchia ma io l'alone glielo voglio lasciare. Cos'è questa concezione immacolata? Il coro delle voci bianche? La purezza? Per favore. Tra l'altro io non li ho mai insopportati perché non hanno mai voluto rappresentare una mia opera. Ho scritto un'opera, proprio un'opera lirica. Un'opera, se resta un po' di tempo, ne vediamo alcuni brani, qualche brandello. Un'opera sui generis. Non è un'opera classica. Non è amatissima dal melomane. Però era un'opera altra. Qualcuno dice un'opera alta. La definirei altra. Un'opera forse che io potrei definire un'opera necessaria. Il titolo di quest'opera è Pioggia dorata sul concerto all'aperto di Rachmaninov. Una sera fresca, fresca. Passami lo scialle. È in macchina. Allora valla a prendere. Io non sono mica il tuo cameriere. Ah no? Allora me ne vado. Il conto, per favore. Sottotitolo vuole anche la ricevuta? Mi rendo conto. Il titolo dice, non dice. Però è un'opera obbligatoria. È l'unica opera che parla delle mogli dei rapinatori, che erano bandite. Non le voleva nessuno. L'unica opera che parla delle mogli che si suppone non siano le vere mogli, cioè le mogli supposte, quindi fatte evacuare. Fuori, 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 fuori. Un'opera che parla di bambini che devono essere accompagnati dal cordone umbilicale, per sicurezza, se non scappano. Un'opera innovativa. Alcune idee. Ho inserito 2000 elefanti in quest'opera. Un'idea forte. 400 comparse. All'arrivo degli elefanti. 200 scomparsi. Via. Una selezione naturale, umana e animale. Vai. Personaggi, dicevo, impensabili e impensati. Faccio degli esempi. Shabira, la contatrice di peli simultanea. Lei si attaccava cantando sotto la scella del tenore, strappava e gridava. Saran 680, 690, fanta, forse di più. Trovala un personaggio così in un'opera classica. Zuman, il ginecologo delle api, quindi un uomo con la grande vista. Personaggi come l'uomo cavallo, il bimbo cavallo, la mamma cavallo, la suocera cavallo, la nuora a piedi, perché? Oh eh! Non è un maneggio. Questa è un'opera, eh? Si dico, ci facciamo prendere la mano, eh? Personaggi come la donna lampo, zzzzzzzzzzzzzzzzzz, col suo classico canto. Una donna aperta, dice qualcuno, e non parlo di carattere, una donna inceppata, dice qualcun altro, molto amica della donna lampo, che era la gemella, che era molto amica della donna caramella, che tutti sceglievano ma alla fine scartavano, sei la donna caramella, cosa dobbiamo far? Ti abbiamo scelto ma ti dobbiamo scartare? Era così, il destino della donna caramella, tanti personaggi, uno dei più inquietanti, il pastore errante, forse uno dei più inquietanti, il pastore errante, era errante, quindi parole giuste, ne diceva poco, errava, andava, errava, andava, errava. E ancora animali, animali, tanti animali da laboratorio, innesti, la colomba porco, qualcuno può dire una maialata, ma lo capivi al volo, questa era la grande novità, personaggi come Ines, sette concetti, quindi una donna non intelligentissima, all'ottavo concetto diceva, quindi una donna contata più che scontata, Lothar, il grande Lothar, son Lothar, son Lothar, e allora? No, dicevo, son Lothar, se avete bisogno, sono qua, gente in cerca di un'identità, la donna cagnone, perché sparata in orbita smetteva di parlare, cominciava a baiare, la mangiatrice di spade e il suo amico lama, sempre insieme, coerenza tagliente, Inge, l'unica donna cieco-slovaca che bratislava, lei bratislava, come facesse a bratislare, non si sa, ma lei bratislava, e forse la mascotte di quest'opera, la mascotte, il corvo idiota, ma sincero, lo ricordo, lo chiamavamo così, corvo idiota, ma sincero, diceva sempre, non sono un'aquila, quindi idiota, ma sincero. Come vedete l'opera si svolge metafisicamente, quindi non ho luogo, ma ho dovuto scegliere un posto geografico e ho fatto una scelta difficile, ho deciso un territorio tra Sherwood e Cartagine, ho fatto un territorio diverso, tra Sherwood e Cartagine, grande, lo so, grande, un territorio enorme, Sherwood, la grande foresta di Sherwood, e Cartagine, la grande Cartagine, l'unica Cartagine, Delenda Cartago, e ringrazio la poetessa, grazie Delenda, che è lei, è lei che mi ha ispirato a questo posto, perché lei era Nathalie, era Nathalie, lei era Nathalie, non so perché continuassero a chiamarla Grazia, se si chiamava Nathalie, però voglio dire, sono temi che non mi devono interessare più di tanto, diciamo che ho da piazzare più di 2000 elefanti, figuriamoci se devo andare a pensare a problemi anagrafici di una che si chiama Nathalie, invece che Grazia, adesso voglio dire, però dato che ci ho pensato, ho detto probabilmente poi lei si chiama Grazia, adesso non ho capito bene però, perché comunque se ti chiami Nathalie non capisco perché scegli Grazia, dovevo non interessarmi, però ormai ero dentro l'argomento, ho detto vediamo se poi ha un senso, allora ho pensato così, magari dice lei è riconoscente al fatto di essere Nathalie, allora lei si chiama Grazia di essere Nathalie, ho detto io, è un mio pensiero, non è che io potevo tranquillamente, non è un argomento portante, allora ho detto se non è portante lascia stare, ma l'avevo già cominciato, cosa lascio stare della roba che comincio, allora tanto vale che dico vai avanti, non per molto mi sono detto perché l'argomento non essendo da cominciare e figurati se è impossibile finirlo, allora mi sono detto questo qui, ma comunque è un tema diverso, magari ho detto ne parliamo un'altra volta, poi ho detto facciamo che non ne parliamo proprio, allora nel dubbio tra passare un'altra volta e non parlarne ho detto finiamolo così non ne parliamo più, o se ne parliamo ne parliamo un'altra volta, allora è quello che hai detto prima, comunque lasciamo stare, magari, magari. Dicevo un territorio tra Scervo de Cartagine, un territorio devastato e devastante, forse, e giuro che poi non ne parlo più, solo c'è chi dice che non fosse proprio nata lì, nata lì, allora no, ho riaperto un attimo il discorso tra me e me, quindi in uno spazio anche molto ridotto proprio perché ho detto c'è chi dice che fosse nata in provincia di lì, allora ecco poi capisco perché ha scelto un altro nome, vedrai che se ti chiami nata in provincia di di lì, insomma il nome lo cambi, perché finchè ti chiami nata lì passi, ma nata in provincia di lì, anche io personalmente se mi fossi dovuto chiamare nato in provincia di lì avrei detto ma io scelgo Grazio, cioè Grazio no, però avrei detto insomma decido un altro nome, adesso dubbiamente non tutti quelli nati lì sono nati lì, però mi sono detto, io che sono nato là, non sono mica nato là, però mi chiamo nato là, allora ho detto se l'avessi chiuso prima questo argomento, ho detto come avrei fatto meglio, però ormai l'avevo, va finito, ma quando è il tema dominante, comunque tra l'altro poi a me non piace neanche come scrive, quindi figuriamoci, però questo è un particolare inutile, però se ci avessi pensato prima, non ti piace neanche come scrittrice, non ne parlare, ormai l'avevo cominciato, ma eri tu, comunque lasciamo stare, se qualcuno riesce a lasciare stare, io non ce la faccio, comunque dicevo Sherwood, un territorio enorme, un territorio talmente grande che alla fine confinava sempre con la Dalmazia, quando un territorio è così grande, va sempre a finire i confini con la Dalmazia, magari a Castello, c'è un territorio, è la Dalmazia, questo territorio classico, il territorio d'Almata con una macchia di uomini qui, una macchia di animali lì, una chiazza di piante là, il territorio d'Almata, un territorio con una certa carica, direbbe qualcuno, adesso non voglio essere pignolo, c'è chi dice più di cento, può essere, può essere, sembra che uno di quegli animali poi fosse il cane di Nathalie, adesso io non voglio, lasciamo stare, mi è venuto così un flash perché ho sentito come si chiamava, abbaio là, e allora probabilmente, il cane è suo, non lo fai che lo viene a dire, ma è un concetto, lasciamo stare, lasciamo stare, un concetto, un territorio alla fine che ho dovuto restringere per forza, era troppo grande, allora ne ho fatto unissimo, strettissimo, strettissimo, l'ho ridotto di 3 metri di larghezza e 12 mila chilometri di lunghezza, guarda, che per 2.000 elefanti che ci dovevano passare in mezzo, è un bello stipore, stupore, no stipore, perché se sei stupito stai largo, ma stipito sfreghi coi fianchi, dice sento dello stipore, ah per forza, erano stipiti, però alla fine di questo sfregamento, dopo 12.000 chilometri uscivano, poi c'era la piana del Don, che era poi il parroco della famiglia di Nathalie, che se lo prendo, e poi questo territorio avevo creato, poi c'erano i monti di Barents, il lago di Nielsen, le colline di Odin, bastava mettere un nome, una collina e uno era a posto, avevo creato un vero territorio, una nazione, avevo creato una nazione classica, classica nazione che confinava sotto con la terra e sopra con il cielo, se, se, non me lo sopacchi, se me lo sopacchi, infatti venne soppalcato dal papà di Nathalie, che si chiamava Lavoro un po' qua, fai quello che vuoi, figuriamoci e quindi già gli elefanti passavano strisciando, in più non riuscivano neanche a alzare la propa oscita perché un cretino aveva soppalcato 12.000 chilometri e dice così stanno più compatti, compatti erano scatole, allora uscivano e alla fine però si liberavano, c'era la piana del Don, la grande, grandissima foresta di Sherwood con tutte queste frecce, tante frecce, Sherwood, la più grossa produtrice di frecce che stavano a indicare, non indicavano niente, quelle erano frecce che non indicavano e nella nostra sezione moderna che le frecce indica, una volta erano frecce, non stavano a indicare niente, cioè se ne avevi metà davanti, metà dietro, era indice del fatto che non dovevi essere lì, quindi indicava che eri fuori posto, era indice di quello, era indice, se la fermavi con questo dito è indice che sei fortunatissimo, però voglio dire, occhio se le passi troppo davanti alla faccia, comunque probabilmente solo in un secondo tempo, cioè dopo lungo intervallo, vennero messi poi dei cartelli che scrivevano appunto, attenzione, frecce, solo che li misero molto attaccati alle frecce, allora uno diceva guarda c'è un cartè e ne aveva già metà davanti, allora o me l'è distanziato un attimino, oppure tanto vale che mi colpite forte e ripetutamente col cartello così mi hanno estetizzato la parte e quando arriva la freccia non la sento, comunque voglio neanche dire di chi era l'idea perché non faccio nomi, tanto li cambia sempre, comunque volevo dire, era Natalino, in ogni modo lasciamo stare, non volevo infierire, perché ho fatto questo overture più lunga del previsto? Per introdurre il protagonista di quest'opera che si chiama Orzino, Orzino un tenore in tassa grande, Orzino un tenore di vita, si chiamava Orzino di vita e cantava proprio per il tenore di vita, era ricchissimo e se non canta uno così ricco, voglio, si chiamano tenore di vita proprio perché se non canti così ricco voglio vedere quando canti, vedrai che se sei povero canti molto meno, al massimo urli, comunque lui Orzino era felice, era felice perché aveva trovato una pepita, questo dice la leggenda, aveva trovato una pepita nel buco Don Osor, aveva trovato una pepita nel buco Don Osor, una volta i bucchi erano tutti liberi e vuoti, la famiglia Don Osor, i tre fratelli Buca e i Buca Don Osor, trovarono l'idea di affittare questi bucchi, affittarono, fecero un sacco di soldi, poi l'azienda chiuse perché fu trovato un grosso buco nell'amministrazione, diceva ma li vendiamo, comunque la azienda venne chiusa, e Orzino trovò l'unica pepita d'oro incastonata nel buco Don Osor, era felice, cantava, cantava, ho trovato la pepita, la pepita, ho trovato la pepita, la pepita, l'ho trovato, l'ho trovato la pepita, la pepita, la pepita fa il caffè, fa il caffè di cioccolato, la pepita fa il caffè, fa il caffè di cioccolato, se lo lasci riscaldare, lui cantava un po' così, a ramengo, cantava un po' alla scuoglia Zibelini, cantare alla scuoglia Zibelini vuole dire cantare talmente male che gli Zibelini scappavano, quando lo sentivano andavano via, dice che tensione che c'è, è alla scuola Zibelini, difficile vedere tanti Zibelini quando c'è tensione, van via, beh quando cantava lui, molti Zibelini uscivano dai loro nascondigli e dicevano, oh se volete squoiarci ma fatelo smettere, per dire, per dire, preferivano essere sbucciati che ascoltarlo, ma non è che lui, non è che lui cantasse male, lui cantava in questo dialetto tra Sherwood, Cartagine e la Dalmazia, quindi un dialetto Gnacca, Tatusala, Masala, un dialetto difficile, il tono era buono, era il testo che lasciava desiderare, mi dice guarda il motivo mi sembra anche orecchiabile, però non riesco a seguire la storia, non riesco a seguire i protagonisti, come in ogni romanza che si rispetti, qui si cantava per amore, Orzino cantava per amore, era innamorato di questa donna, Catarina, Catarina Frangente, una donna che lui quindi vedeva solo di notte per i motivi, una donna che aveva un cugino che giocava nella Dinamo, quindi voglio dire c'era proprio un ciclo, un ciclo di vita che continuava, aveva anche una sorella cartolina per dare un senso al suono delle generazioni, lui amava questa donna a livelli altissimi, a livelli troppo alti, tant'è che dice ma se mi cade da dei livelli così alti, allora la buttò lui per sicurezza, almeno so quando cade, l'amava talmente che la buttò, se l'avessero dietro l'avrebbe sepolta, ma siccome l'amava la buttò e questo gettito mi fece capire che dovevo cambiare qualcosa nel mondo della lirica e cambiare i tre no, nei tre nuovi no del mondo della lirica, se lei veniva buttata dall'ultimo piano, dal terzo, dall'ammezzato, orzino, capiva e non capiva, si rendeva conto del gesto che aveva fatto e non si rendeva conto, donna, donna, non t'ho mai vista così giù, orzino, il coro cercava di rincuolare, orzino l'hai spinto, per forza è caduta, è ovvio, il coro era molto più avanti di orzino, orzino però non si arrendeva, mai avrei pensato in questo stato, il coro cercava di stringere anche un po' i tempi, diceva, orzino, le nazioni non c'entrano, in qualsiasi stato butti qualcuno, cadrà, è la forza di gravità, dai, va là, lo doppiava a intelligenza orzino il coro, adesso orzino capiva, chiedo perdono, no, non sono un assassin, ancor, giammai, pensar, dover, sentir, ognor, erano tante le parole tronche come in tutte le opere, allora si era pensato di inserire un coro, il coro della giunta, che le terminasse per dare un senso un pochettino più conseguenziale, non sono un assassin, no, ancora, pensiero, un coro giapponese che desse il movimento, un percorso così, nel dolor, ancora, loro non non è che capissero, però andavano, orecchio, poi tornavano perché non potevano stare sempre là, orecchio, per sentito dire, non si fa, è proprio in quel momento, nel dolor sentire sol l'otar, sol l'otar, guarda l'otar, è un momentaccio, se vuoi passare più tardi, davvero, non è perché ti veri, ho gente, faccio fatica, sono anche stranieri, ti chiamo io, non ti preoccupare, vai a fare un giro, donna, donna, quando ti ritroverò, quando, 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 avevamo pensato di inserire anche un altro coro, il coro dei quandooni, per risolvere il problema del tempo, quando, e i quandooni dicevano, all'alba, e risolverò il problema del tempo, poi c'erano i dovoni, cioè, all'alba ma dove, e i dovoni dicevano, nel terrazzin, no, sì, giuro, no, non è che i giapponesi neghino che fosse nel terrazzin, e che loro chiudono sempre le parole, ti dici, terrazzin, no, vedi che la chiudono, ti faccio l'esempio con Walter, prova a dire Walter, Walter, ha chiuso anche Walter, che era già, eh, è chiuso, fai così, lasciatemi lavorare ragazzi, c'erano i quandooni, i dovoni, poi c'erano i che cosanti, cioè, all'alba, nel terrazzin, ma a fare cosa, a pugnare, re, e allora dico il che vuoi, ah, so, do, parà, con su, in ah, osu, oh, che andassi, ah, 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 eravamo al sessantesimo atto, Catarina era lì, in un bagno di sangue, donna, esci da quel bagno, anche ho bisogno, sono le otto e voglio sanguinar, re, sarai stenuante, donna, lazara, lazara, alzati per favore, re, fa il miracolo, memore del nostro amore, memore del nostro amore, femore del vostro amore, disse il coro, no, memore, femore, femore, orzino, femore del vostro amore, guarda cosa c'ha sotto le orecchie, non sono orecchini d'osso, si son sfilati cadendo, femore del nostro amore, lei era incassata nera, cadi tu, dall'ultimo anno vedrai che un po' ti incassi, per forza, non puoi non incassati, nera, nera perché ormai il sangue aveva coagulato, non c'era, donna che bella corona che ha in testa, non l'avevo mai notata, era dentiera cadendo, si è spilata, lei era da raccogliere col cucchiaino, infatti l'opera poi si chiama orzino in tasta grande, quindi voglio dire, c'è una conseguenzialità, ecco, tutti erano il capezzale di questa povera donna, il capezzale in termini melodrammatico è questo letto mammellare, si chiama capezzale proprio perché è tondo, con questi puntini rosa per non rovinare la mochetta della vita, e lui, lui orzino però ormai non l'amava più, diceva guarda come sei ridotta, e il coro diceva cadi tu dall'ultimo piano e vedrai che un po' ti riduci, lui non la voleva più, lui era innamorato di una splendida sirena, lui amava questa sirena, una sirena, una sirena secca, una sirena disidratata, squamata, una sirena asciutta perché le venne fatto un sortilegio da due cigni, povera sirena, i cigni nella mitologia di solito sono bianchi o neri, questi erano marron di un colore bruttino, scuro, antipatici, facevano sortilegi, vennero soprannominati due marron, non li voleva nessuno, a lei fecero questo sortilegio della vista, la resero prima miope, poi presbite, poi astigmatica, lei zoomava di continuo, ormai era sbulbata, scigliata, la chiusero anche nella piramide di miope, lei uscì quasi cieca ed egizia con questa testa punta, non ce la faceva più e non vedendo bene non riusciva a raggiungere il mare, l'acqua si squamava, si disidratava e piangeva come le sirene quando si disidratano o anche quando non si disidratano ma piangono, sempre così, quartieri distrutti di notte, gente che si affacciava alla finestra, è la sua macchina? Non lo so, vado a vedere, e se fosse la sua? Non ho la macchina, orbetella, 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 vieni via da Grosseto, che fai lì orbetella? Hai l'occhio a mezz'asta, ti è morto qualcun? No, sono più tranquillo, ascolta, hai l'occhio a mandorla alla bocca, schiaccianoci, frutta secca, ti voglio chiamare, re, oh no, hai lo sguardo strano, che fai? Mi vedi? Non mi vedi? Quante sono queste? Orzino provava a metterla alla prova, e queste? Era furbo Orzino, e queste? Allor che mi di? Il coro non ce la faceva più e disse, ma non vedi che non vede? Non vedi che non vede? Orzino disse, io vedo, ma cosa mi dite che non vedo? Ho sempre visto? Perché adesso mi venite a dire davanti a tutti che non vedo? No, non ci siamo capiti? Non vedi è un modo di dire, sarebbe come dire, vedi che non vede, vedi che non vede, ma rafforzato, è un modo di dire, non è che si neghi che non, e non poteva dire due volte, vedi che non vede? Ho una vista buona, ho sempre avuto sessanta sessantesimi, una laurea in vista, sì, una laurea in vista, arrivò Lothar, disse, Lothar, scusaci, no, ce lo dovete pensare prima, è giusto, un uomo che ha una buona vista, no, uscì un elefante e disse, oh, o la smettete subito, o noi andiamo via in gruppo, va bene? Non si può lavorare così, è impossibile, è impossibile che io parli, l'elefante era stranito di questo fatto, non aveva mai parlato, l'atmosfera era molto surreale, Catarina stava morendo, la pepita non si trovava più, Orzino era preoccupato, allarmi, 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 allarmi o allarmi, disse il coro, ci cagliamo addosso o andiamo alla guerra? Cos'è sto dualismo? Basta, deciditi, allarmi, disse Orzino, quando la ritroverò? All'alba i quandoni provarono a risolvere, ma non ce la fecero, Orzino piangeva dentro, era triste e chiedeva sempre quando, ritroverò la mia pepita, quando? Mucca femmina che lavora a ghigliottina, cioè vacca boia! L'atmosfera era troppo tradica, decido, dato il tragico di inserire un personaggio divertente, un giullare, cosa c'è di più bello che un pulsante al suo cancello, cosa c'è di più bello? Orzino lo vede e dice, è scemo! Il coro dice, Orzino, sono i tuoi, sono venuti a prenderti! Orzino, torna in te, se puoi torna in qualcun altro che fai anche più bella figura! Orzino, deciso, epico e durissimo, disse, uccidete il giullare! No, disse il giullare, no, per favore, no, non uccidetemi proprio adesso che ho perso le mie lenti a contatto e spero di ritrovarle presto e quindi non vedo perché dovreste uccidermi! Se vedessi il perché non vedo neanche la ragione, va bene, e spero di trovare le mie lenti prima del passaggio degli elefanti! Perché le entipiate mi vanno bene, ma ultrapiate no! Mi irritano il cristallino, la pupilla e anche la cornea! Aspera, stai not volo sui, e il ferro, sti in feinens kumpf, uns corneans el, e rispüden alle flessante frutti in singe di catturino, tutti i catturino, i rispüden alle flessanti si Non ci sono tenori tedeschi, penso Orzino. Strano, è mio cognato, disse il pastore errante. Potevi dircelo prima, che abbiamo preso anche un po' paura. Eravamo al centoduesimo atto, inconsulto, immorale, non lo so, era un atto. Io non posso pensare a tutto. L'orchestra parte con un crescendo e non torna più. È la prima volta che approfitta del crescendo l'orchestra per andare via. Non era mai successo. E insieme all'orchestra se ne vanno gli orchestrali, la compongono, quindi è facile. Un fenomeno di tramsumanza, senza fermate alcune. E insieme a loro se ne vanno anche tanti elefanti, coda nella proboscide, proboscide nella coda. Un fenomeno di tramsumanza e vanno via. E insieme a loro se ne vanno anche centinaia e centinaia. Ma cosa dico? Forse di più. Centinaia e centinaia. Ma di più ancora. Centinaia e centinaia e centinaia. Di mille! Il coro non ce la faceva più. Cos'è se toglie centinaia e centinaia? Di mille e basta! Erano novecento. Se no l'avrei detto. Adesso ho perso il conto e devo anche rifare. Centinaia e centinaia di mucche. Mucche. Fuggivano alla Svizzera. Al gredo di caramella gommosa. Al caramello. Mu! 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 Attaccate ai denti. Non molavano più. Non molare! E disse uno dei denti più importanti. In quel momento Catarina sembra risorgere. Sembra rinascere. Catarina si è svegliata. Catarina si è svegliata. Il coro. Catarina si è svegliata. Correte. Catarina si è svegliata. Anche l'otar sono l'otar. Non vedi che si è svegliata. Non vedi che si è svegliata. Allora ce l'avete col mio. E vedi che si è svegliata. Allora fa qualcosa per favore. Catarina dove hai messo la pepita? Ho ingoiata. Che hai detto? Ho ingoiata. Stupida donnetta. Te la farò pagare. Sì. Fagliela pagare. Stupida donnetta. Te la farò pagare. Sì. Fagliela pagare. Fagliela pagare. Fagliela pagare. Facciamogliela pagare. Facciamogliela pagare. Avessimo più fretta. Facciamogliela cagare. Dai. Facciamogliela cagare. Non mi piace questa parola. Preferisco defecar. Defecar. Anche se mi ricorda una brutta concessionaria. Defecar. Defecar. Poi la storia la conosciamo tutti. Finalmente il concessionario si namorò di Catarina. Fuggirono. Il giullare attraversò il cancello e se ne andò. La sirena si buttò in mare ma squama non squama. Chissà chi la mò. C'era bassa marea. L'unico che al duecentesimo atto, quasi 80 atti dopo la fine dell'opera, quando già l'autosalone era diventato il teatro e il teatro era diventato un autosalone, Orzino da solo cantava un po' a ramengo, alla scuola di Bellini. Come amava cantare lui forse una delle romanze che aveva amato di più. Dice guarda io so quanti sono ma non ho ancora capito cosa fanno. Ma non ho ancora capito cosa fanno. Alla sua linea. Perché faccio quest'opera? È una domanda che mi faccio anche io tutte le sere alla fine. Perché uno viene a fare un'opera così, qui, quando poteva starsene a casa, tranquillo, davanti alla sua finestra, a vedere passare la gente? Perché uno deve venire a fare un'opera così come questa qui? Quando era già là a casa, tranquillo, davanti alla sua finestra, non obbligo nessuno a fare quel che dico io, ma era già là? Uno poteva stare davanti alla sua finestra a vedere cantare. Ecco, perché non poteva stare a casa davanti alla sua finestra a cantare? O a vedere passare, adesso non mi voglio formalizzare, ma perché non poteva stare là e deve venire qua a fare un'opera così? Quando era già comodo là a vedere passare dalla finestra, a cantarsi, perché uno deve fare un'opera così qui, quando poteva stare davanti a passare la finestra, cantarla, vedendola, a vedersi passarla? Perché? Adesso è una domanda che mi faccio io. Perché deve fare un'opera così quando poteva stare là, davanti alla sua finestra, a vedersi passar cantare? Perché uno non sta davanti alla sua finestra a vedersi passar cantare? Perché è difficile! Come fai a vederti passare cantare dalla finestra? O sei lungo, lungo e vai su così e arrivi su che guardi e ti becchi, ma ti becchi di così però, eh? È raro! Poi io non so neanche tanto alto, o c'hai la coda, allora passi che ti vedi, poi io sto a un quarto piano, quindi escludo che si riesca proprio a fare tutte le scale veloci, da beccarmi ancora che mi sto vedendo andare su, non ce la faccio. Allora ho detto, fai l'opera, ma ho detto, ma faccio l'opera, ma è meglio? Per quanto faticosa, ma vuoi mettere con riuscire a vederti passare cantare? Almeno ho fatto qualcosa, non sono stato con le mani in mano, lì sul piano rotto, la provare di vedere passare cantando. Tra l'altro a un quarto piano dice, ma non riuscivi a subaffitare l'attico e andavi la mezzata, ma scusa, mi piace l'appartamento, ma perché devo subaffitare un attico per provare di vedermi passare cantare, che è difficile, perché o mi stendo e allora, insomma, poi è un collo, bisogna essere diversi, non è che io possa vedermi passare. Poi se uno mi chiede, ti riesci a vedere passare, ma anche cantando, perché è la difficoltà, sta lì, metti che una volta ci riesca a girare, ma non canti, allora non è più valido a sapere di cantare, a vedersi passare. Se a un certo punto io mi vedo cantare, poi mi viene, perché ho fatto poi l'opera, ma ovviamente, a un certo punto pensavo, uno è già a casa, uno è già a casa, che canta davanti alla finestra, si vede passare a cantare, non poteva già operare. Ho detto, mi sono detto, sei già davanti alla finestra, perché devi venire a fare l'opera qui, non puoi cantare l'opera, operare là, a cantare di operare là, passando dalla tua opera, dalla finestra, operando. Dico, adesso non seguite la mia domanda, però voglio dire, dato che sei già là davanti alla finestra, invece di cantare l'opera qui, o come si dice cantare l'opera? Operare, ecco, non riesci a cantare, a operare. Dico, perché non riesci a operare dalla tua finestra la gente che vedi passare a cantare? Mi faccio a operare della gente dalla finestra che li vedo passare a cantare? Innanzitutto per operare ci vogliono sette anni di medicina minimo, che per quanto lunga sia l'opera io me la sbrigo prima. Sette anni di medicina poi devo subito operare, non faccio neanche un po' di tirocini o niente che devo già operare. Mi ha anche fatto la festa di Laura che mi dice, oh, devi operare dalla finestra la gente che vedi passare a cantare. Tra l'altro, tra l'altro, avevo appena ripreso da un po' l'attico, che ero sudato, avevo rogitato, vai su, vai giù, non sono lì neanche che devo operare della gente. Con dei bisturi, perché è un quarto piano, ci vuole dei bisturi 25 metri, 25 metri di bisturi, adesso voglio vedere io. Perché se uno ci ha preso un po' la mano, ma insomma per la prima volta, vedere come si muovono anche col vento della gente da operare dalla finestra. Che se stenevo per un giorno ancora giù la mezzata operavo, da Dio operavo, niente. Sono sul davanzale del quarto con stick e spero che li abbiano collaudati perché sono lunghi da morire. Io devo operare della gente che devo passare a cantare, quindi anestetizzatissima non è, perché sono lì che vanno su e giù, sono agitati. Ah, ma agitati, ma porca miseria. Li operano dal quarto piano, vorrei vedere quel che non capisco perché cantano, perché a certo punto, perché se io dovesse operare uno su una panchina sdraiato, dice, non sta bene, ma questi qui cantano, dice, guarda che sono pazienti, sono pazienti, ma non sono coglioni, dai, operare. A un certo punto, a un certo punto dice, beh, prevenzione, prevenzione, ma stan bene, cioè è preaccanimento antiterapeutico, perché a un certo punto, come fai? È uno spostamento nel tempo di operare della gente. Comunque, vabbè, io posso anche provare a operare della gente dal quarto piano, chiedo solo un favore a quelli del secondo, di non stendere perché io non riesco a lavorare così. Io ho bisogno di tranquillità, ho rogitato, sono sudato, su e giù, mi sono appena, appena, appena visto passare cantando, non riesco a operare con delle mutande, dei calzini che svolassano. E' loro che cantano, state un po' zitti almeno, non si riesce a lavorare così. Mi saccariscono conto, cioè non vorrei che si spargesse poi la voce, dice, guarda, c'è un pullman col freno a mano, tirato sui monti Urali, dice, chiama lui, te lo sblocca con un bacchetto, ce la fa, riesce a operare cantando della gente, dice, guarda che il Mar Rosso non si chiude più, è lui, trova il buco, te lo apre lui, non vorrei che si spargesse questa voce qui, che mi saccanissero contro, in un periodo in cui cosa mi saccaniscono contro, che c'è della gente che se va in giro questa voce qui, poi dice, guarda, chiediglielo cantando, perché lui fa tutto cantando, allora, cosa mi saccaniscono contro? Io non maccanisco, se si sente saccanisse, saccanite loro, cosa maccanite? Io maccanisco, gli altri si saccaniscono, allora saccanite chi si saccanisce? Io non maccanisco, perché se uno saccanisce e dice, lo stai saccanendo, allora saccanisce, ma io non mi sto saccanendo, al massimo maccanisco, ma io non vaccanisco, voi vaccanisco? E' anche un'esclamazione, vaccanisco, cioè voglio dire, a certo punto, allora, accanite chi si saccanisce? O mi avete saccanito quando mi accanivate, se vi saccanite voi? E' questo che mi chiedo io, dopo una giornata come questa, riuscire a capire chi si saccanisce quando mi hanno accanito, allora lo chiedo a te, Santimbuto, Santimbuto, dove stiamo andando a finire qua dentro? San niente di nuovo, cosa c'è? San bilico, vieni giù di lì, scendi da quel camion, zio, zio, perché hai mai abbandonato, zio mio, zio santo, o zio santo mio, zio buono, zio buono, santo zio, zio mio, zio, zio, zio del cielo, si parla sempre della moglie e del figlio di Dio, e mai del nipote, se si fissa su un grado la parentela gli altri non esistono, e se io fossi il nipote di Dio, disse guarda ma tu non lo puoi vedere, adesso parte che mi dispiacerebbe che gli arrivasse all'orecchio che io non lo posso vedere, dice guarda non ti può vedere che sembra brutto, non mi ha fatto niente lui, non mi ha fatto niente, dice però perché non lo puoi vedere, adesso non è che non lo possa vedere, il problema è se non mi può vedere lui, questo è un bel problema, vede tutti, se non mi può vedere vuol dire che o non ci sono, comunque voglio dire, sono riposato un po', allora diceva, a un certo punto, dice ma tu non l'hai mai visto il tuo zio, non l'ho mai visto, ma quanti nipoti, non vedono lo zio però sono sempre i suoi nipoti, non è che se tu vedi un parente, sei parente, se non lo vedi diventi apparente, non è che, non è un discorso oftalmico di vista la parentela, cioè allora io esco di mattina di casa, vedo una ragazza, dico ciao, e lei diventa mia cugina perché l'ho vista, non è così, ci vuole un rapporto di sangue, schizzala con la siringa, non è così, poi non è che io, non è che io pretenda proprio di essere, come si dice, pretenda di essere il nipote prediletto, potrei essere anche il nipote scendiletto, cioè il peggiore, non mi voglio mica fissare sul concetto di essere, potrei essere anche il figlio della sorella, di quarta generale, del fratello, di secondo letto, in fondo a sinistra, là, nel corridoio dell'esistenza, non potrei essere là, è un domandamento, faccio un domandamento, non ci si può fare dei domandamenti, ce ne sono dieci, io non posso fare un domandamento, diciamo quelli sono comandamenti, comandamenti, un domandamento è la stessa cosa, anzi, il domandamento è il comandamento rafforzato proprio dalla domanda come per dire, me lo chiedo proprio perché ci credo, faccio un esempio, non rubare, cioè come dire, siamo sicuri, ecco, confermato, questo, il domandamento mi dà quella forza per chiedermi, valutando positivo il comandamento, cioè come dire, non desiderare la donna ad altri, sono state le modifiche o c'è ancora? Ecco, io sono stato molto malato, non vorrei che, oh, tenetemi l'informato, vietato fornicare, c'è, oh, è stato sostituito da vietato sparecchiare, ecco, metti che abbiano istituito vietato sparecchiare, che secondo me c'è, perché dopo la mangiata che Dio ha fatto con Adamo e Adamo ha fatto con Dio, che hanno dato una mangiata, che Adamo ha detto, guarda come ti ho ridotto la cucina, vuoi che ti aiuti a sparecchiare? E Dio disse, no, tanto domani c'è la donna, ecco come l'ha creata, ma non è giusto, non è giusto, come disse San, non è giusto, questo, sono riposato un altro po', come disse, come disse San, come disse San, San, come disse San, 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 come dice San San, protettore dei santi giapponesi, San San, San San, come dice San San, San San, molto amico di San San, San San, quello che se gli tagli i capelli, perde la forza, San San, San San, amico di San San, tutti e due, oh, ho dei grossi problemi di sinusine, come va San San San, eh, come vuoi che va, però si capivano tra di loro, San San disse, attenzione a San San, questo è un passaggio dalla materia prima all'anima poi, quindi è un passaggio molto delicato, passaggio dalla materia prima all'anima poi, quindi è una specie di otto sdraiato, quindi è il simbolo dell'infinito, una pista praticamente, materia prima all'anima poi, ed è un passaggio, come disse, come disse il professor, mi disse il professor, il professor Tandelman, Tandelman, professor Tandelman, o Tandelman, o Sandelman, col PH in inglese dice, Tandelman, o Tandelman, c'è chi lo legge Tandelman, o Tandelman, adesso io non voglio fissarmi, però Tandelman, c'è chi, alla tedesca sarebbe Fendelman, o Tandelman, quella diariti fa Fendelman, o Tandelman, insomma io lo chiamavo Tandelman, o Tandelman, adesso non ricordo, come disse il professor Tandelman che disse, non mi chiamo così, dico, vabbè, dai, era un esempio, il professor Tandelman disse che era un passaggio molto delicato di spiritualità, adesso io non voglio affrontare qui in questa fase la spiritualità, spiritualità, no, anche spiritualità però, spiritualità, perché se una cosa non c'è più, è spirituale, dice, guarda, ma io l'avevo vista, io no, allora è spiritualità, perché non c'è più, è spiritualità, quel vuoto apparente che noi vediamo è un vuoto apparente, è un vuoto poi, domandamento, perché qualcosa è andato via o perché qualcosa di nuovo sta per arrivare? Questo è un domandamento, facciamo un esempio, fosse un garage, fosse un garage, un garage vuoto, è un esempio per semplificare, dice, è la macchina appena andata via o è vuoto perché una macchina nuova sta per arrivare? Adesso nell'esempio questo è facile, perché senti l'odore della benzina, dici, guarda che la macchina è appena andata via, adesso ho scelto un esempio non felicissimo, perché senti, lo risolvi subito, sempre che non costruiscano questa macchina che ho sentito che stanno costruendo, che è un modello che scarica con una turbina dal davanti tutto il gas e arriva molto dopo la macchina, perché scarica con questa turbina fortissima il gas che arriva anche sette ore prima e la macchina arriva poi dopo è un modello che secondo me non è che incontrerà un gran fortuna, però secondo me non va neanche in porto un modello così, poi è una macchina, per andare in porto devono carenarla, comunque lasciamo stare, per me è un'idea di Nathalie, comunque non diciamo niente, io non voglio infiorire, però ho voluto dirlo perché se quel modello, che siccome ho sentito nell'aria che forse fanno degli esperimenti, piccole ricerche di costruire questo modello, ho detto, ho detto, tu dillo, perché se poi ci sarà quell'esempio e un giorno avranno fatto quel modello là, che per me non faranno, però se lo faranno diranno guarda che ho sentito e non è, allora ho detto, tu dillo, se lo fanno il modello, bene, se non lo fanno, ho detto, io non avevo detto niente, cioè non voglio, non voglio che un giorno mi si fermi per la strada e mi si dica, ehi, oppure, ehi, adesso io non so come sarò girato, insomma, ehi, posso sapere tutto, oppure, ehi, questo è altissimo scemo, ehi, un medico in visdomiciliare, insomma, non voglio che nessuno mi fermi e mi dica, ehi, e poi dico, beh, o finisci la domanda o niente, no, perché continua a fermarmi dicendomi, ehi, allora, passaggio, siamo onesti, come diceva San, siamo onesti, è ovvio, e diceva, come disse San Sordo, San Sordo, che poi non era sordo, quante volte gli abbiamo detto, laureola, fala finire dietro la testa, ma che, lui, tac, la faceva finire, allora, è una tua scelta quella lì, non c'è peggior sordo di che uno vuole sentire, dice, ci vuole un santo a vivere come te, e difatti, comunque, San Sordo disse questo, che il passaggio da materia prima ad anima poi, era un passaggio estremamente violento, doloroso, quantomeno doloroso, non voglio dire solo violento, è doloroso, violento, di solito se è doloroso non è detto che sia violento, se è violento è facile che sia anche doloroso, però se è doloroso non è, peccato, peccato però, che la violenza sia sempre abbinata al dolore, pensavo, pensavo, come disse San, pensavo, pensa se la violenza fosse sbinata dal dolore, poter uscire di casa la mattina con un randello di metallo e colpire i passanti solo per sentire i suoni che fanno il sonno, fatto male, no, posso stracciare un orecchio, sì, ha sentito niente, no, e se le faccio anche l'altro racconto, non sento proprio niente, niente, posso segarle una gamba, guardi faccio gli ultimi due passi, glielo do, pensa, pensa la versatilità dell'essere umano con la violenza priva di dolore, però la violenza c'è abbinata al dolore, peccato, 10 è l'inventore della violenza, avrebbe da dire 4 è l'inventore del dolore, un concetto, come disse, è un concetto difficile, in fondo questa incidentalità, si pensa spesso all'incidentalità, io ci penso spesso incidentalmente, quanti, non so gli altri, io tante volte si pensa ad andare con una macchina a 250 km contro un platano, che cosa ci trattiene appunto se non il dolore, pensa, chi ci trattiene, beh siamo in due in macchina di soldi, chi ci trattiene, lo troviamo, ma se siamo soli, cosa si trattiene se non il dolore dei parenti a casa, il dolore anche di chi ci soccorre alla vista, il dolore anche personale, pensiamo all'auto impatto, pensa quante volte, quante volte si sente dire, si sente dire tante volte dice, ehi, ha perso il controllo della macchina e sfortuna si è trovato in mezzo alla strada, proprio un platano di notte, pensiamo anche cosa pensa il platano, dice sfortuna la mia, dice il platano, che me li vedo arrivare a tutta velocità di notte e non mi posso spostare neanche di un centimetro, che se loro avessero fatto un po' di scuola guida ce l'avrebbero fatta, io a scuola di radici non ci posso andare, dice però albero se ti segavano, se mi segavano la macchina sbatteva lo stesso, ci sono i miei fratelli dietro, è un viale ed è il tramonto se li prendi tutti col cofano, capito? Dice però, cattivo albero, ma l'albero è vero che si muove, la parte sopra si muove, ma se tu albero ti capovolgevi e la macchina passava tra le foglie, guarda che credo sia più facile che costruisca la macchina che scarica dal davanti, però adesso hai notizia? No, secondo me non la fanno, è saltato tutto il progetto, comunque giustamente, parlando poi del concetto di violenza, di dolore, per assioma, come diceva San Perassioma, è difficilissimo non arrivare al concetto di morte, il concetto di morte come accezione negativa, non per me, non per me, non per me, non per me che da anni non vedo un funerale negativo, sempre positivo, difficilmente muore qualcuno di negativo, difficile chi si senta dire a barra aperta, che cretino, difficile, di toglie, si dice sempre, sai che non ero uno stupido? Sì, e dico, però io l'ho conosciuto un mese prima di morire, era ancora stupido, sì, ma guardalo adesso da morto, non è così stupido, è così, no, però la base mi sembrava molto vasta da vivo, che cosa succede in questo passaggio, perché la morte è un passaggio, non è una fine, al massimo un fine, che cosa avviene in questo passaggio che viene esondato il negativo dell'essere umano, viene pulito il vizio, viene pulito l'errore, quasi migliora fisicamente, quante volte si sente dire, guarda, guarda, guardalo adesso a barra aperta, sembra, sembra, guarda, sembra che dorma, e perché quando dormiva ed era ancora molto brutto dicevano, guarda, sembra morfo, perché? Che cosa avviene in questo passaggio cambiante, questa metamorfosi che rende migliore? Cioè, allora morendo si diventa più intelligenti? Allora mi viene anche da pensare, ma i cretini uccidiamoli, se migliorano, e questa, ma lo dico anche per loro, dico, meglio un intelligente morto o un cretino ancora vivo, egoisticamente? Adesso, non vorrei che se passasse questa legge ipotetica, bisogna anche darsi da fare, perché c'è una lista, bisogna lavorare molto, però, probabilmente, probabilmente, come dice Sam, difficile pensare però al concetto di morte, che non porti dei ricordi negativi personali, bisognerebbe abolire, piacerebbe domani fosse un re, un monarch, un presidente, poter indire amnistia dei ricordi, cioè da domani non si ricorda più, la memoria la terrei, però i ricordi li lascerei andare, in maniera che questi due animali che ci hanno rovinato la vita, che sono due gli animali che ci hanno rovinato la vita, che sono il cane da rimorso, il cane da rimorso che è una bestia incredibile che ci morde due volte, quando pecchiamo e quando abbiamo il senso di colpa, questa bifaucizzazione. L'altro animale è un animale clavicolare, spallante, è un animale, l'avvoltoio del capire, l'avvoltoio del capire, sempre lì, a inagguato, a chiederci come mai, qual è la ragione, che senso ha, sarà vero, ma è giusto, è scientificamente dimostrato, questo animale rapace di chiederci solo una conferma, in rapace, in rapace di volare pindaricamente, di andare oltre, nell'altro, altrove, difficile, molto amico del razio cigno, quell'animale che sguazza lì, nella palude, nella palude dell'attualità, della contemporaneità, questo ci vorrebbe, ci vorrebbe, ci vorrebbe una specie di, ci vorrebbe una specie di, è un termine, adesso non vorrei interrompermi, beh, ormai il più è fatto, è una parola, è una parola, è un termine, è un termine, quindi tra un po' si chiama termine, proprio perché o ti sbrighi, o se no, se le parole non fossero termine, andrebbero avanti l'infinito, quindi, ecco, 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 è un inventilatore, un inventilatore, ci vorrebbe un inventilatore, cioè qualcosa che rinfreschi il cervello, se hai pensato molto, e al tempo stesso scopra qualcosa di nuovo, ventilare e inventare, inventilatore, questo è un oggetto che tutti gli scopritori, gli inventori, i geni, tutti quelli che vogliono usare l'intelletto, ma soprattutto le scoperte, le esperienze nuove, lo scopritore, tutti gli scopri, faccio un esempio, lo scopritore della scoperta, quello che scopri, la macchina scoperta, faccio un esempio, lo scopritore della scoperta, quello che ha scoperto, la macchina scoperta, quello che litigava sempre con lo scopritore della macchina, che dice, l'ho scoperta io la macchina, e adesso io non tengo la parte, nessuno dei due, però, in effetti, la scoperta della macchina è di quello che ha scoperto la macchina, però, questo, aveva scoperto la macchina scoperta, cioè, voglio dire, aveva creato un fatto, un'opzione interessante, aveva scoperto la scoperta, e l'altro, si imbestia le io, perché dice, bella scoperta, l'ho scoperta io, allora l'altro dice, forse non ci siamo capiti, rilassati, tu l'hai scoperta, io però l'ho scoperta, scoperta, è inutile che lo ripeti cento volte, non è che ripetendola acquista giustezza, capito? Cioè, voglio dire, a un certo punto, tu hai copiato, non è vero, insomma, c'era della tensione, soprattutto lo scoprittore della scoperta, ero molto nervoso, diceva, basta, sulla mia scoperta non ci piove, e l'altro diceva, no, caso mai, con calma, è sulla mia che non ci piove, diceva lo scopritore, insomma, c'era della ruggine, soprattutto nel modello quello, e beh, erano, erano le prime capote, non è che puoi sperare, tutto sembrava andare per il meglio, fino a quando arrivò uno straniero in città che disse, salve, sono lo scopritore della coperta, avete bisogno? Dici, guarda, è un momentaccio, se vuoi andare a fare una passeggiata, so che c'è l'Other, degli elefanti, vai a fare un giro, hai scoperto la coperta? Fammi capire, sono 50 anni che cerchiamo di capirci noi, tra chi l'ha scoperta, coperta, tu arrivi tu e hai scoperto la coperta, che coperta? Poveretto, lui, lo straniero, aveva scoperto la coperta, non la coperta, la macchina coperta, aveva scoperto il plaid, poveretto, il panno, solo che non l'aveva detto, aveva creato questa tensione, e poi anche lui era molto irrascibile, lo sapete che con la mia scoperta, cioè la coperta, io posso coprire la tua scoperta e farla diventare come la sua, coperta? La tensione era alle stelle, Zibelini, vero, l'aria si tagliava col coltello, qualcuno andò in aria, prese quel coltello e uccise lo scoprittore della coperta, Bravo, disse lo scoprittore della scoperta, grazie, disse quell'altro, tanto che uno così non si ragionava, bene, solo che ho un problema, disse lo scoprittore della scoperta, Qual è, disse lo scoprittore della coperta? E se si scoprono? Eh, ma allora, sei fissato, ma rilassati un po', dai, mettiti tranquillo, lo avvolgiamo nella sua coperta, Così non ci scoprono, dai, no, lo avvolgiamo nella sua coperta, nella sua scoperta, no, nella sua scoperta, se lo avvolgiamo nella scoperta ci scoprono, Allora però non hai capito niente, scusa, lui ha scoperto la coperta, quindi sia che io dica, lo avvolgiamo nella sua scoperta, che è la coperta, sia che io dica, avvolgiamo nella coperta, che lui l'ha scoperto, Io poi, quest'esempio qua, non lo volevo neanche fare, non so perché ci sono andato a finire dentro, non so perché ci sono andato a finire dentro, Non so, probabilmente, probabilmente, come disse Dante, Dante disse una frase molto esaustiva su questo passaggio, Dante disse, una frase complicata, siamo onesti, molto complicata, però una frase anche, siamo molto onesti, una frase esaustiva importante, Dante la disse, Dante, o Foscolo, adesso io non mi ricordo, comunque era frase difficile di tutte e due, o Foscolo o Dante disse questa frase, o era Petrarca, sono sincero, tutte e tre bravissimi, però sul momento non mi viene proprio l'idea di chi fosse, forse era, di Dante, Dante che disse questa frase complicata perché poi anche Dante non avrà detto, perché poi dicono sempre queste frasi complicate, anche Dante non avrà passato la vita a dire delle frasi complicate, avrà detto anche qualcosa di semplice Dante, passami il sale, chiudi la porta, e mai nessuno che dica, come disse Dante, chiudi la porta, passami il sale, cioè Dante ha sempre mangiato roba saporita al calduccio, non ha mai avuto dei problemi, dai, ci posso credere, dai Foscolo, passagli un maglione, ma di che chiude la porta, Petrarca, dai, ragazzi, non litigate in un esempio, c'è mica una coperta, un momentaccio per le coperte, guarda, lascia stare, insomma, non mi ricordo più, come disse Dante, o Foscolo, insomma, o Petrarca, adesso non ricordo, cioè probabilmente, loro volevano dire che bisogna stare molto attenti al possibilismo estremo della fantasia, l'immaginazione, proprio come ossessione, può portare al fuori luogo, questo è quello che voleva dire Dante in quelle parole, il fuori luogo, ma cos'è fuori luogo? Questo è un domandamento, è un domandamento, cos'è fuori luogo? Ci si può chiedere, cos'è fuori luogo? Faccio un esempio, veloce, perché gli altri mi hanno disossato, faccio un esempio veloce, ce l'ho, un esempio veloce, ecco, una candela accesa, se noi vediamo una candela accesa dentro un frigo, noi diciamo, quella candela è fuori luogo, vai, un esempio perfetto, candela accesa dentro il frigo, fuori luogo, a 100%, 100%, 100%, una candela accesa, se tu vedi una candela accesa dentro il frigo, 100%, è fuori luogo, a 100%, 100%, 100%, è impensabile, però siccome lo sto pensando, le cose impensabili quando sono pensate non sono più impensabili, adesso se, se la candela c'era già da prima accesa e solo dopo, in un secondo tempo, attorno, gli hanno costritto il frigo, allora non è più quella candela che è fuori luogo, è il frigo che mi diventa fuori luogo, vedi? Vedi cosa fa il pensiero? alle volte, ti dai più scontato, la candela accesa dentro un frigo, dici, candela accesa, fuori luogo, no? Devi pensare, stai dentro, non essere affrettato, rilassati, rifletti, pensa, quando è stato fatto il frigo? Questa è la domanda che ti devi porre, perché uno difficilmente si chiede, quando è stato fatto il frigo? Chi se lo chiede? Nessuno, ma nel caso che tu abbia una cosa fuori luogo, devi sempre chiederti, quando è stato fatto il frigo? No, sempre, no, non sempre, in quell'esempio lì, quello della candela, adesso perché forse ho creato un'aspettativa, non vorrei, mi spiego peggio, se vediamo una racchetta da tennis con un caco sopra, diciamo, quel caco è sicuramente fuori luogo, ecco, non voglio sentire nessuno che dica, eh, aspetta, sta attento, rilassa, pensaci bene, stai attento e chiediti, quando è stato fatto il frigo? Ecco perché. Con quell'esempio lì, il frigo non c'entra niente con la racchetta da tennis con il caco, al 100%, al 100% una racchetta da tennis con il caco non c'entra col frigo, 100%, è raro, eh, però se la racchetta da tennis con il caco è infilata nel reparto frutto del frigo, però è un caso molto difficile, eh, se poi, se quello che ha messo la racchetta con il caco è anche lo scopritore del caco, eh, non ci voglio pensare, se la racchetta poi è di Natali, tac, comunque lasciamo stare, non voglio, non voglio pensare che il possibilismo esasperato porta proprio questo pensiero anche di una forza di espressione interiore ulteriore, allora uno dice dopo passi da un attimo dal fuori luogo vai a finire al fuori di testa, ecco, ma cos'è fuori di testa? Questa è una bella domanda, un domandamento, sono veloce, non faccio esempi, le orecchie sono fuori di testa, il naso è fuori di testa, le mani finché non te le mangi tutte e due sono fuori di testa, i capelli per antonomasia sono i più fuori di testa e parlo di chi li ha, non affronto il calvario, si chiama proprio calvario, perché ha tre capelli in croce, quindi voglio dire se non è un calvario quello, erano quattro ma un ladrone che poi era Natali che l'ho visto con delle ciocche, comunque lasciamo stare, vedi? Il calvo, poi vedi che sfrontatezza, il calvo non li ha, vedi che sfrontatezza, adesso in tutti i sensi proprio, che sfrontatezza, non li ha, il calvo non li ha o noi non glieli vediamo? Cioè il fatto che noi non vediamo una cosa vuol dire che non c'è? E se il calvo, i capelli li avesse che crescono all'interno? Aviamo mai fatto un attacco, una ressonanza magnetica a un calvo per vedere se li ha? Il fatto che io adesso da qua non riesco a vedere la mia macchina vuol dire che me l'ha anciulata o che c'è un muro che me l'impedisce? Non sarà un discorso di apparenza e sparenza? Apparenza e sparenza? Un concetto un po' saluno, eh? Apparenza e sparenza, eh? Non sarà un discorso così? E se fosse un discorso perché uno dice giustamente? Allora il fatto, questo è un passaggio importante, come disse Sani, importante, questo è un passaggio importante, il fatto, questo è molto complicato, il fatto che io adesso non veda morire nessuno al mondo vuol dire che non muore nessuno? Cioè con un problema oftalmico ho risolto un problema esistenziale? Cioè allora se io mi metto un paio di occhiali scuri non vedo più niente di negativo? Posso risolvere questo? Non sarà un discorso di trasparenza? Cioè se le teste fossero di vetro potremmo vedere oltre ai quotienti potremmo vedere anche quanti capelli ha, se i muri fossero trasparenti o vetrati potremmo vedere la mia macchina che da qua mi interessa che comunque riesco a vedere i portapacchi e non so, non so perché sopra c'è un frigo che io non gliel'ho messo, voglio vedere, è perché c'è Dante che guida il volante, comunque lasciamo perdere, non vorrei, non vorrei, come dice San non vorrei, come dice, c'era, come dice San c'era, lui diceva sempre, diceva questo scienziato che morì, morì dicendo queste parole, ultime parole famose che mi servono proprio per spiegare, le ultime parole famose, ultime poi bisogna che siano famose, non è che uno dice, perché adesso c'è un po' la fissazione, dice guarda sai cosa ha detto prima di morire? Bisogna che quello che abbia detto sia importante, non è che solo perché l'ha detto prima di morire acquista d'importanza, tant'è che questo scienziato disse ciao ciao, quindi voglio dire non fu sti imprinting per la ricerca, aveva inventato il bisaluto, ma sai che roba, è un po' come se io prima di morire pensassi e dicessi ah sette e mezzo, uno dice ma non saranno troppi, lascio, allora c'è questa forma di negoziazione, allora questo scienziato disse, voleva poi dire questa frase che nella vita ci sono troppe domande e pochissime risposte, questo era quello che voleva dire, è quasi come se le risposte fossero le domande travestite da risposte, praticamente una matriosca di domande con dentro la risposta, il russo, ecco perché poi molte risposte non le capiamo e come disse Chico, figlio di Adam e Duva, Chico disse, attenti alle domande a grappolo. E a proposito di domande, barba, capelli, shampoo, un'occhiatina al cuore, cosa faccio con la frangia? Faccio la riga? Taglio? Sono barbiere che si viglia? Beh, è lei il barbiere che si viglia? Mi dica lei cosa devo fare? Sa che io posso farla pensare toccandoli i capelli? Sa che io posso farla sognare sfiorandoli ai ricci? Perché? Perché i capelli sono la naturale continuazione del pensiero, ma va, sì, faccio delle metafore, forfara, pensieri sporchi, capelli sottili, pensieri deboli, doppie punte, ambiguità, capelli grassi, pensieri porchi, capelli che cadono, idee terra a terra, capelli ricci, ricci, questa dobbiamo un po' perfezionarla ma ci siamo, ma sa che ha ragione, ma sa che mentre me li muova penso di più, sogno di più, ma sa che forse io e lei abbiamo tante cose in comune, guardo quelle foto e credo che noi amiamo le stesse cose, ama anche lei la famiglia, no? Le cornici, bellissime quelle cornici, ha visto? Ha visto cosa è passato adesso dalla finestra? Bellissimo, un bellissimo gabbiano, a me quello sembrava contrario, un sacchetto di plastica bianco, per me quello era un gabbiano, per me è un sacchetto di plastica, per me quello è il contrario, un gabbiano, per me è un sacchetto di plastica, scusi, per lei il contrario di sacchetto di plastica è gabbiano? Non dico questo, ma perché ogni volta che torno dalla spesa lo cucini in vasa dalle cacche? Non lo so, lei dove abita? Sugli scogli? E questo aiuta molti gabbiani, ascolti, mi tolgo una curiosità, solo se lei mi mette un dubbio, va bene? Dato che siamo in confidenza, eh, paga la mossa, scherzavo, ascolti, ascolti, lei in questo momento della sua vita, sincero, e a suo agio, beh diciamo che non mi lamento, e se io le segassi un dito, il più importante, senza anestesia, beh, mi lamenterei, vede? Vede com'è l'uomo? Prima non si lamenta, poi si lamenta, vede com'è variabile, volubile, il problema è la soglia del dolore, quindi non stia lì sulla porta, venga dentro, entri, per eliminare il dolore, alle volte bisogna entrare, faccia lo zaino, si lasci tutto alle spalle, via, vada via, non vorrei, non vorrei aver offeso la sua intimità, ho offeso la sua intimità, oh, guardi, per offendere la mia intimità ci vuole altro, una racchettata sui testicoli offende la mia intimità, scusi, a proposito della racchettata, scusi, se gli chiedo, la racchetta della racchettata che lei abbia notato sopra, ah, è amico un caco, ma, guardi, l'avrei notato perché ho giocato tutto il pomeriggio, sa, gli schizzi probabilmente, ah, però, 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 sa una cosa adesso mi ci fa pensare probabilmente che non l'avevo notato, il manico della racchetta era gelato, come fosse stato in un frigo, ah, ma lei mi capisce al volo, che bella cosa al volo, pensi che una mattina Icaro si svegliò, sai Icaro chi era, eh, Icaro si svegliò e sa cosa fece una mattina, sveglio, lui fece colazione, perché lui a stomaco vuoto non riesce a fare niente, guardi, guardi che lei è spiccante, se trova, se cerco, ascolti, ascolti, crede nella provvidenza celeste, no, sono daltonico, ah, è daltonico, scusi, è coi semafori, come fa? Ah, è uno strazio, guardi, scendo dalla macchina, corro a sentire quale colore emana più calore, capisco, evito motorini, autobus, ma è uno strazio in città, ma perché lei non va a piedi? Guardi che anche andando a piedi bisogna distinguere i colori, questo lo dice lei, lo vuole dire lei? Posso? Sì, guardi che anche andando a piedi bisogna distinguere i colori, com'è andata? Sa che pensavo fosse più divertente? Non è sta gran frase, la vedo, la vedo perplesso, eh, oppure adesso me la fate anche addosso, come mai? Ogni volta che qualcuno mi dice la vedo perplesso, la vedo perplesso, per favore, che ho un problema che ho fin da piccolo, per favore, è una brutta infanzia la mia, è la sua più bella, a proposito, ho un ricordo della mia infanzia, della sua, come faccio ad avere dei ricordi della sua? Guardi che la vedo perplesso, no va bene, va bene, va bene, ho un ricordo della sua, ce l'ho, suo padre, lo vedo, me lo ricordo, mi sembra almeno, un tipo magro, molto magro, che si sporgeva molto, magro e si sporgeva, stava lavandosi le mani, cade nel lavandino, finisce dentro il buco, passa per tutto il sifone, si fa tutte le tubature delle città e si salva solo uscendo da un water di una casa adiacente, che fortuna, disse la gente, che culo, disse suo padre, uscendo dal water forse nel momento sbagliato, però intanto, intanto si era salvato, ma sa che, ma sa che, lei è riuscita a trovare un proprio, un ricordo, come ha fatto a entrare nei miei rimani, ma sa, lei mi sfiora i capelli, mi tocca la cute, questo aiuta molto, mentre stavano amabilmente parlando, un remo, cade dal lampadario, lasciate andare da un moscone, di solito dicono che i mosconi sono fastidiosi, no, il pericolo è quando lasciano andare i remi, il remo colpisce uno dei due che impastisce letteralmente e comincia a dire lo sa che mio padre era senza un braccio? Dico, è un peccato, perché gliel'ha mangiato il più grosso squalo bianco, dico, è raro, ma può succedere, raro, mio padre non si è mai mosso da Madonna di Campiglio! Dico, è già più difficile allora, o vanno in turnesti squali? Oppure, come dice il proverbio, iniugit sportus cadet certus squalis talis pater talis filius Madonna di Campiglius! Conosce la lingua latina? No, ma so, distingue dalla lingua se uno ha mangiato qualcosa che gli ha fatto male, se uno ha del sangue sulla lingua vuol dire che ha mangiato un coltello, bene, se ha del sangue nelle feci vuol dire che l'ha già digerito, bene, capisco, ho i miei dubbi? No, non mi offenda, non volevo offenderla, bene, caro stronzo, eh, adesso mi ha offeso però, sì, era per vedere se stava attento, ascolti, sa che adesso devo andare, anch'io devo andare, ho da fare, cosa? Devo andare dal barbiere? Ah, ma io sono un barbiere, eh, la vedo, è nel mio negozio, eh, lei è il mio cliente, ah, ma allora, scusi, e dopo dove va? Dopo che è stato da me dove va? Eh, oggi è un giorno importante, sa, oggi comincio a parlare coi sassi, oh, beato lei che parla con i sassi, sono anni che voglio parlare con i sassi, e i sassi non mi parlano più perché li pesto, li calcio, li tiro, li schiaccio e loro se la prendono, mai nessuno che vada in un cortile e dica, come va bel sassolino? Come vuoi che vada? Ero sul lato destro del cortile, è arrivato un deficiente, mi ha dato un calcio, adesso vivo sul lato sinistro, se non trovo più nessuno che mi ricalcia di là, la mia famiglia d'origine qui e io vivo là. I sassi li abbiamo sradicati e loro questo l'hanno sentito, provevo a andare a casa di uno e dire buongiorno, ho un gran calcio nel culo e lo spediamo a casa ad un altro, non è che il giorno dopo ci aspetta e dice parliamo? È difficile, e noi ci siamo ossessionati a non parlare coi sassi, parliamo magari con le piante, parliamo con gli animali, parliamo con i bambini di un anno, parliamo con un bambino di un anno, pensare che sassi e bambini hanno tante cose in comune, dice guarda quel bambino, dorme come un sasso, il sasso non ho l'orecchio del bambino che dice bambino stai giù, stai giù che c'è il cretino del cortile, stai giù! I sassi sarebbero disposti anche ad aiutarci, ma noi no, noi parliamo con gli oggetti anche, parliamo con i bambini di un giorno anche, finché un anno, di un giorno, cosa vogliamo dire a un bambino di un giorno? Vogliamo dirgli che appena lui parlerà siamo pronti ad ascoltarlo, ma è un concetto boomerang, è un concetto australianante, canguroso, un concetto di ritorno, è un concetto che noi vogliamo quando noi non parleremo più che loro siano lì a parlare con noi e questo è un concetto ricattatorio temporale e non è certo che succeda, anzi è incerto e l'unica certezza è l'incertezza, diciamolo a questo bambino che l'incertezza è la certezza, questi bambini che credono sempre chissà chi e chissà cosa, bambini che si chiamano Paolo, convinti di chiamarsi Paolo tutta la vita, anche una coerenza nominale, quando dicono a un padre vai a prendere i bambini da scuola, mica gli ha detto i tuoi, non può prendere anche i bambini di altri, passare davanti alla scuola a vedere il suo figlio Paolo e dirgli ciao Ugo, per tenerlo in tirella, per tenerlo teso, per far sì che il bambino si faccia delle domande e cominci a porsi delle preoccupazioni e abbia anche dei dubbi e dica ma è poi mio padre quello lì? Questa è la forza di stare tesi in tirella per cercare che il bambino si forgi all'esperienza e quando il padre ripassa con tutti i bambini ancora lì perché gli ha detto vai a prendere i bambini da scuola amiche gli ha detto e poi porta le case quindi ce li ha ancora lì, ripassa davanti al suo figlio Paolo e dice ciao Ugo e il bambino dice ma allora è idiota lui qui, però il bambino comincia alla certezza dell'incertezza, il bambino si fa forte, si fortifica, sta in tirella, sta teso, alza il livello di guardia e se può parla con quella guardia, dice ma non lo arrestate quel deficiente di mio padre, il bambino sta facendosi furbo, comincia a socializzare, parla col bidello, sono già due giorni che non mangia, il bambino ha delle paure, il bambino non sa come risolvere attentamente la cosa, il bambino afferra il concetto della diversità finalmente, afferra quel concetto e se può afferra un tondino e dice fa che ripassi di qua mio padre che gli rifaccio la fanaleria, il bambino comincia a reagire, sta in tirella, sta teso, comincia ad andare in classe quei pochi alunni che sono rimasti, dice adesso voi state tutti dentro, vado fuori solo io in mezzo alla strada con un cartello enorme, a caratteri cubitali scrivo San Paolo, vedi di prendermi, il padre lo prende nel senso che lo investe pienamente, il bambino capisce che prendere ha tantissimi significati, il bambino cresce nel vocabolario della resistenza, il bambino saccanisce nel senso di esperienze e di concretezza, guarda il bidello con un altro occhio e dice quello lì non è il bidello, quello è il bimbo che suo babbo non l'è mai più venuto a prendere, il bambino è furbo, è sta in tirella, ma intanto mi cresce da un punto di vista di intelletto e d'azione, il bambino comincia a correre come uno sesso di fianco alla macchina di quell'idioto di suo padre, con la testata sfonda il finestrino posteriore, si butta nel sedile dietro, il padre gli dice beh Ugo chiamami come vuoi ma intanto son dentro, il bambino ce l'ha fatta, è stato in tirella, è stato teso, nel kamasutra della vita ha trovato una posizione importante, solo che ha una fame che non ci vede e infatti mangia il poggiatesta e il padre gli fa una domanda che solo 5 giorni prima sarebbe suonata diversa, ti piace la macchina? Lui dice pesante, sono sincera e pesante, magari dopo mangio le pedanine al pesto che sono più friabili e mentre vanno via il bambino fa una domanda ancestrale a questo padre e gli chiede essenzialmente ciò che pensiamo tutti, la mamma dov'è? E' un padre vero, padre vero che tiene il figlio in tirella, gli dà una risposta sola, la mamma è partita per sempre, non tornerà mai più, il bambino mi schianta, mi schianta, questo concorso di bellezza di ragazze che cascano per terra e si fanno male, mi schianta, il bambino mi schianta e chiede al padre ma come mai è partita, il padre vero che tiene in tirella al figlio gli dà una risposta sola, per colpa tua, quindi me lo carica, di un senso di responsabilità inadeguato e il bambino mi si scioglie, mi si scioglie, questo concorso di bellezza di ragazze che svaniscano al sole d'estate, mi si scioglie, fino a che il bambino non vede la madre che entra con le chiavi in casa, allora il bambino mi si smaiorca, il bambino mi si smaiorca, cioè esce dalle profondità insieme a tutte le ragazze che erano in apnea, mi si smaiorca, il bambino esce dalle profondità dove era sprofondato e va in superficie dove c'è la superficialità, la domanda che mi faccio è è meglio la superficie con la superficialità o la profondità dove era sprofondato, se vuoi respirare è meglio la superficie con la superficialità, se vuoi pensare la profondità dove era sprofondato, ma qualcuno montessorianamente da un punto di vista educativo mi dice, mi dice ma come può venire su un bambino così, come viene su un bambino così, ma forse un bambino così non viene anche su, ma cosa vengo su a fare dice il bambino con un padre di quel genere, ma io sto nella cantina della vita, ma sto a una taverna dell'esistenza, ma chi me lo fa fare? Ma l'avete visto? Il bambino ha paura, ha paura, ha paura, ha paura, è un padre vero, sa che la paura si combatte col dolore, il bambino ha paura del fuoco, manina sul fornello e vai, vedrai che mentre hai il dolore la paura non ci pensi mica, il bambino ha paura di schiacciarsi le mani, via, dita nello stipite, apri chiudi, apri chiudi, apri chiudi, un trim universale gigante, il bambino teme un po' attraversare la strada, nessun problema, lo leghi in vita con una corda, lo tiri in tangenziale e prima che le macchine tiri, in maniera che il bambino si suggestiona, anzi si, auto, perché lì sono più le auto che le suggestioni, però quando si parla di auto suggestione è proprio quella lì che dice, oddio, è quella lì, in quel momento proprio il bambino deve essere attaccatissimo al padre, attaccatissimo, dice ci deve essere attaccamento tra padre e figlio, in caso della corda l'attaccamento deve essere al massimo e ci deve essere gioco, no 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 no, non ci deve essere gioco tra padre e figlio, se sei attaccato con la corda, meno gioco c'è e meglio è, perché siamo sinceri, un padre giustamente attaccato, pensavo poi, pensavo poi, pensavo, come disse San Pensavo, a San Poi che erano, pensavo poi, come si fa a legare poi un figlio in vita con una corda, un padre, come fa a legare il proprio figlio, quando è già stato legato a una madre per nove mesi, un padre, lo lega a una corda, ma dai, come si fa a legare il proprio figlio, i nostri figli, mio figlio, suo figlio, cos'è poi questo concetto di nostro, suo, mio, cos'è questo concetto di proprietà che andiamo cianciando, cos'è, i figli non sono mica nostri, i figli sono degli autostoppisti, metaforicamente, che sono sulla nostra strada, li carichiamo per fare un viaggio con noi, poi li dobbiamo rimettere al loro essere figli, non al nostro essere genitore, cos'è questo concetto di possessività, possiamo rendere il viaggio con noi più bello, se di lì radica tutto in pelle, ma poi a certo punto devono tornare nella loro strada, che non è necessariamente sempre la nostra, un figlio, come si fa a legare un figlio, si sente dire, ho avuto un figlio, cos'hai avuto un figlio, è nato un figlio, molto diverso avere e nascere o far nascere, molto differente, come si fa poi con una corda, come fai a legare un figlio con una corda, con l'elastico, capisco, tiri, il bambino si sfionda via, ma con la corda, se non sei veloce, il bambino ci resta male, no no, ci resta, ci resta, con la fionda è più bello, il bambino è felice, sono salvo, sono a posto, è lì, è quando sei a posto che tac, così, da piccolo, si fa questa esperienza in maniera tale che quando sarà più adulto, dovesse accapitare, se gli succedesse, quando accadrà, cosa vuoi che gli capiti da adulto a un bambino così? Che gli è già capitato tutto da piccolo? Le percentuali vanno a letto con lui, ma andiamo via, ma cosa facciamo con uno così? Un bambino così può anche attraversare in pigiama tra la nebbia di notte mentre piove un aeroporto che non lo prendono, o se lo prendono per farlo Stuart, quindi voglio dire, non è questo, un bambino, un bambino che ha avuto un padre, un padre che come me raccontava le favole non per addormentare i bambini, ma per svegliarli, un padre che entrava alle 4 di mattina in camera da letto e diceva, c'era una volta? E il bambino, oddio, perché era convinto di accenderli alla vita, come si fa addormentare i figli con una favola? Una favola deve svegliare alla vita, 2 e mezzo, la fatina, 6 e 20, l'orco, e il bambino guardava l'orologio e diceva, ma non vado a scuola stamattina, non suona più questa benedetta sveglia, pensa alla forza di innovazione di questa favola che ha fatto sì che la scuola diventasse importante per il ragazzo, che per tutta notte non aveva chiuso occhio e il giorno dopo il padre alle 6 meno 5, il lupo cattivo e il bambino con due stecchini fisso dice, ma ci fosse questo lupo cattivo? Di che venga qua, che ti mangia, idiota! Pensa alla forza di transustanziazione, ha fatto sì questo padre che il lupo, che di solito è terrore per i bambini, mi diventi salvatore, il lupo è diventato salvatore, pensa al caos, se il padre di quel bambino si chiama salvatore, non capisce più se è il padre, se è il lupo, e se è lì che gira con una racchetta nel frigo, dice, è lui, con la candela e vedi che è nata lì, no! Pensa, un bambino così, come mi può venire fuori un bambino così? Un bambino alla fine di una giornata come quella, quando il bimbo s'assopisce, perché a forza di tirargli poi i sassi la parola stessa lo dice, s'assopisce, dice, ma il bambino dice giochi di parole, ma che è giochi di parole? Quando il bambino si chiama s'assopisce, quando il bambino si è sassopito, quando si è sassopito, tiragli, vedrai che si è sassopisce il bambino s'assopisce, il padre non ha ancora pago, sta in tirella teso e ha le sue due pantofone, ne raggiunte altre 98 il bambino, quando si sveglia, dice, ma ne avevo solo due, dice, adesso sei più in gamba, si vede che ne ho bambino disperato e come disse Sandaletto, come disse Sandaletto, a proposito, come disse Sandaletto protettore di tutti gli infradetto, Sandaletto disse che era uno dell'ordine dei maledettini, Sandaletto era uno dell'ordine dei maledettini che non lo sopportava nessuno, perché lui entrava nel cuore della notte nelle celle del convento e diceva, ricordate, perché lui era così proprio, Sandaletto, ricordate, ricordate ricordatevi, ricordate, poi la gente lo menava perché o ci dici cosa dobbiamo ricordare o crei una tale tensione che è inutile, allora lui dice, ricordate, loro erano pronti, ricordate, non ci si può fermare davanti a un ombelico solo perché è chiuso, beh poi l'hanno continuato a menarlo perché dice, beh, tutto questo per niente, poverino, è stato poi ucciso così Sandaletto, martire, abbastanza, comunque, perché, perché, cosa voleva dire, lui voleva dire, adesso voglio, voglio dire, come dice, come dice San Cheromimo, San Mimo, come dice, lui disse che nella vita ci sono dei passaggi di un certo livello, lo capirebbe anche un treno questo, nella vita ci sono dei passaggi di un certo livello, quindi ci sono delle parallele che vanno seguite, poi bisogna che c'è uno scambio tra le persone e se hanno freddo, treno, treno, perché uno, allora c'è un padre, un padre, io non voglio pensare che un padre mi vieti le cose, vuole semplicemente dirmi, invece di fare queste, fai quelle che sono più belle, una specie di alternativa, io che credo nel karma, come se un padre sale sulla tua vita e fa una specie di dirottamento karmico, ti porta in un altrove, ad oltranza, no? E' una specie di interspazio, è un luogo non di posti, ma un luogo di concetti, è una specie di, in qualcosa di infrasettimanale, ma cercare il tempo che c'è tra un padre e un figlio infrasettimanale, tra la settimana, ma ancor più tra un giorno e l'altro, come trovare un piccolo giorno tra lunedì e martedì, è come se ci fosse un piccolo, scrivi di, scrivi di, un grigli di, scrivi di, dove un padre possa dire in un altro modo a un figlio, buongiorno, 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 non ha visto il cartello di divieto? Sì, ma andavo talmente veloce che non sono riuscito a leggerlo, patente per favore, non ce l'ho, favorisco un altro documento, non ce l'ho, come mai? Ho lasciato tutto al centro documenti smarriti, e perché? Perdevo tutto, ho detto teneteli voi che faccio un giro solo quando lo venga a riprendere, buongiorno, buongiorno, come va? Benino, niente da dichiarare, gliel'ho già detto, non avevo la patente, altre cose da dichiarare? Pozzi di petrolio, risorse aurifere, niente, agente, stecche di sigarette, niente, sacchi di farina, teli di juta, agente, a posto, allora può andare, vada, vada, vado, vado, prudenza, sempre, mi raccomando, a presto, a presto, non ripeta tutto quello che dico, va bene, e non beva, d'accordo, mi disidratto perché me l'ha detto lei, mi ha capito, mi ha capito, non beva, non si addormenti, una vita d'inferno, ho sete, ho sonno, ma perché? Cosa ho fatto io? Voglio dire, se sei stanco e ubriaco, faccia guidare un altro, se sono da solo, si fermi, immobile, sono immobile, ho paura, sete, sonno, una vita d'inferno, veramente? Mi ha capito, fermi un altro automobilista e le chiede di guidare al posto suo, scusi, è la macchina dell'automobilista dopo chi gliela riporta, quindi siamo in idea del po' del piffero, non c'è un metodo migliore, se io sono ubriaco e lo sono, sì, scendo dalla macchina e la spinga, così sentirà un po' l'arrietta fresca, finalmente riuscirà ad avere un po' di refrigerio e si sveglierà, attenzione ai sorpassi a sinistra, spingendo la macchina non c'avrà quell'abbrivio che aveva prima di sicurezza, ma scusi, se sono da solo e spingo, chi guida il volante della mia macchina? Una bella domanda, magari quello di prima che le ha restituito il favore, va bene, va bene, buongiorno! Oh, buongiorno! Patente, libretto, libretto, libro, libro, quaderno, quaderno, astuccio, astuccio, foglio, protocollo, foglio, protocollo, righello, righello, cartella, cartella, banco, banco, cateda, cateda, bidello, bidello, scuola, scuola, casa, casa, chiesa, chiesa, comunione, comunione, ostia, ostia, qui manca il bollo, sì, ha fatto un bel giro lungo, però io ho capito, 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 sì, non sarà un pomeriggio facile con lei, mi fa vedere l'assicurazione? Ho la casco, non c'è problema, casco, sotto casco, sotto casco, guanti, guanti, cappello, cappello, orologio, orologio, anello, anello, fede, piede di speranza, speranza, carità, carità, soldi, portafoglio, portafoglio, cartedità, cartedità, patente! Per fortuna ho il pomeriggio libero, perché credo, ho disdetto anche degli appuntamenti, ho fatto bene, doveva dirvelo prima, poteva dire, prima, prima, seconda, seconda, terza, terza, quarta, quarta, quinta, 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 sesta, sesta, retromarcia, retromarcia, freno, freno, stop! Mi fa vedere gli stop! Solo, voglio vedere anche le luci, e dopo le luci, costumi, scenografia, regia, non credo ad avere tutto nella macchina, il debutto? C'è la lunedì, male, dovrebbe averlo sempre con sé, sa che le devo dare un sacco di schiaffi in faccia? Perché a gente? Ho finito il ripretto delle multe, eh, va bene, male, dovrebbe avere sempre uno di scorta, ha ragione, mi fa vedere la ruota di scorta? Se stavo zitto! Apre il baule, chiude il baule, ha visto però che la ruota di scorta ce l'ho? Apre il baule, chiude il baule, ha visto che però la ruota di scorta ce l'ho? Non mi interessa più la ruota di scorta, lei è grasso, ginastica, ginastica, apri il baule, chiude il baule, apri il baule, chiude il baule, vai, movimento, movimento, vai, forza, apri la portiera, chiudi la portiera, apri la portiera, chiudi la portiera, vai, sbatti la portiera, sbatti la portiera, apri la portiera, scusati col figlio della portiera ad aver sbattuto la mamma, via, vai, veloce, veloce, vai, cric umano, cric umano, fai il cric umano, sdraiato sotto la macchina, inspira, inspira, alza la macchina, bassa la macchina, crea un'atmosfera, soffia dentro il cappellotto delle gomme, vai, veloce, apri il tettuccio, apri il tettuccio, apri il tettuccio, non ce l'ho, aiaiai, aiaiai, se non c'ho il tettuccio, non c'ho il tettuccio, no, aiaiai, mi sono morso la lingua dicendo aiaiai, eh, va bene agente, vado a famigliare qualcosa, va bene, arrivederci, ci vediamo dopo, va bene, buongiorno, buongiorno, come va? Ho tre punti sulla lingua, bravo agente, così se faccio un'infrazione la bacio e i punti riprendo per la mia patente, no, no, non faccio lo spiritoso, e come mai? Avevo da chiederle già notato altre volte, non ha il seggolino per i bimbi nella macchina? Non ne ho, come mai? Mia moglie ne le può avere, come mai? Vuoi vedere le foto delle tube? Ce le ha? Cosa? Le foto o le tube? Le foto ce le ha? Può non credere mia gente, ho detto proprio un anno fa a mia moglie, ma perché non facciamo mai un servizio fotografico di tutte le tue interiore, metti che un vigile idiota un giorno mi fermi e me lo chieda, allora abbiamo fatto proprio queste foto patinate, abbiamo fatto tutto l'album, bello plastificato anche quello, stamattina uscendo di fretta di casa l'ho lasciato lì sul trumò, può non credervi, non ne credo, ero sicuro. Facciamo un esempio, dice la gente, sua moglie ha posto con le tube, lei ha un figlio, dove lo mette? Se ha un esempio, mio figlio lo metto dove voglio, nel baule, non può, io le faccio la contravenzione, non può, come no? Il codice degli esempi parla chiaro, esempio 525, se c'è un uomo che ha dei problemi con la donna alle tube, c'è un codice degli esempi? Ma da quando? Per esempio da adesso, buongiorno, buongiorno, andavo veloce, andavo in fretta, ma non ne potevo più, lei mi fermava sempre, correvo, lo so, chiedo scusa, ma correva bene, guidava da Dio, è riuscito a fare a 180 km l'ora una rotonda senza tirar giù un aiuolo a un ciclista, ho visto gente a 40 km l'ora a fare delle schifezze che lei non se li immagina neanche, se le do i soldi delle multe di quelli lì e le fermo il traffico, lei la rotonda me la fa a 250? È la prima volta che mi fermate per congratularvi, dobbiamo farlo, abbiamo un senso dell'estetica, anche noi non siamo solo punitivi, lei guida bene, come dice il proverbio, quando la faccia fa una rapina anche l'occhio vuole la sua parte, se ne rendo conto? Lei vincerà anche una multa studio, cioè le diamo dei soldi per andare a guidare la casta anche all'estero, capisce? Ci piace, ci piace anche l'arte, dentro questa divisa c'è qualcosa per il bello, non siamo solo così punitivi e costrittivi, siamo aperti, anche sabato, allora passo sabato, che va a vedere come sta mia moglie, che la stanno operando alle tube, va bene? Buongiorno, buongiorno, lei non sa chi sono io? Beh, un'ideuzza, gente, me la son fatta, mi ferma sempre lei, patente per favore, lei si chiama? Ma è scritto lì, è una prova di memoria, per favore, io mi chiamo Honor, grande Honor, abbiamo parlato del mio mestiere, di tutore del viaggio e della circolazione, parlami di te, chi sei veramente? Io sono un sarto per zibellini, amo il mondo della lirica, cosa vuol dire essere sarti di zibellini? Facciamo degli esperimenti sull'animale per capire il comportamento umano, vivisezione? No, no, abbiamo capito per esempio che l'uomo che porta la cravatta è più facile al suicidio, e cosa c'entra lo zibellino? Prima abbiamo fatto l'esperimento sullo zibellino, com'è andata? Eh, il più è stato fatto, gli mette la cravatta lo zibellino, si inciampava sempre, allora abbiamo dovuto tagliarla, lui ha cominciato a piangere, a dire, ah, l'unica che avevo di quel colore, un ricordo di mio padre, allora molte le ho cucite io, ma sono chirurgo da poco, allora qualche mentolo forato, poi cosa vuole mai? Abbiamo stretto troppo, alcuni li abbiamo sgozzati, abbiamo capito una cosa sola per la ricerca, che solo uno zibellino su cento si può salvare, e questo per la ricerca cosa serve? Eh, vuol dire che non ci saranno più zibellini eleganti, è un dato agghiacciante, e non solo, ce ne sono altri, ma veramente sì, si ricordi che presto, molto presto, forse ancora più presto, adesso, verranno in molti da Giove per andare sulla Terra, in tanti arriveranno da Saturno per recarsi su Venere, altri giungeranno da bacco e raggiungeranno cenere. Questi più sfortunati, si ipotizza che su altri pianeti ci sia vita, quello che non si chiede la scienza è se c'è vita c'è anche speranza. Mi piace pensare a un mondo altro, dove ci sia gente come noi, ma ben diversa da noi, uomini che hanno una bocca, ma è per toccare, che hanno un occhio, ma è per sudare, che hanno una mano, ma serve per ridere, che hanno un ombelico, ma è fatto per parlare, togliti le maglie che non sento quello che dici. Mi piace pensare a un mondo altro, più che a un altro mondo, dove la carta diventerà veramente igienica, e cioè smetterà di fare quel lavoro, perché se sei carta igienica, quel lavoro lì non lo deve neanche cominciare. Pensa se non eri cartigenica, che lavoro avresti fatto? Mi piace pensare che ci raderemo col più grande rasoio del mondo, un rasoio per tagliare le superficialità più superficiali del superficiale, il rasoio si chiamerà il Dalai Lama. E finalmente tutti i pipistrelli potranno andare a cena nei ristoranti quando i camerieri verranno girato le seggiole sotto in su, e loro potranno sedersi come piace a loro, e finalmente le colombe saranno tutte bianche. Pace, no, una nevicata le avrà sepolte di brutto, e gli unici uccelli che volano saranno quelli ingombranti che volano col catetere, ma un'immagine idilliaca, pesci con la flebo, gazzelle stampelle, gechi, e finalmente farfalle con i problemi ai denti, che se vogliono volare devono avere solo l'apparecchio, e tanti asini chiusi nei treni, perché? Per deragliare. Eeeeee! Un solo grido, in quella notte. E NOLO! Un grido lancinante spezza il silenzio di quell'altro mondo. E NOLO! Dove sei? Si è perso il bambino a cui nessuno ha mai regalato nulla, ma solo prestato delle cose che doveva restituire in tempo. E NOLO! Sono in un negozio, non vuoi! A questo punto riassumo, anche se io non ho mai licenziato nessuno, diciamo che riassumo è un po' un concetto sindacale, ma può essere anche un'idea di concetto letterario, ma restiamo nella metafora industriale, diciamo che dalla fabbrica del pensiero non ho mai licenziato idee operaie, perché io ho altre cose da fare nella vita, ho altro a cui pensare, devo risolvere altri problemi, anche perché da un'oretta che vorrei risolvere un problema, questo dor di caco marcio, vorrei sapere qua sotto perché, e vorrei riuscire anche a capire se riesco a vedere, perché qui è pieno di racchette, di pantoffole, c'è un buio, ci vorrebbe una candela, ma dove lo trovo un frigo aperto a quest'ora? Poi insomma diciamo, ho altre cose da fare, non posso pensare a tutto io, ci sono tante cose da fare, a 100% uno dice ma solo delle cose da fare, a 100%, adesso a 100% ho anche delle cose da non fare, perché uno si fissa molto su quel che ha da fare, se dovesse pensare a quel che non ha da fare, ma sono molti di più quelli che non si hanno da fare, solo che si dice guarda non posso venire da te stasera perché ho tanta cose da fare, adesso a parte queste 80 che tutti hanno sempre 80 cose da fare, ma finite quelle 80 cose, avrai delle cose da non fare? Penso alle mie cose da non fare, per esempio io non devo andare a Boston, che per uno che ha il pomeriggio impegnato è già un buon vantaggio, non devo picchiare un prete senza motivo, non devo cercare un po' di musica da mettere di sottofondo mentre picco il prete così dico, ho trovato un buon motivo per non picchiare il prete, ne ho di cose da non fare, non devo andare davanti alla finestra a vedere di cantare passando perché ormai io l'opera l'ho già fatta, ne ho di cose da non fare, non devo vedere due angeli che brindano e dicono alla tua, no brindo alla tua, alla tua superbi, ne ho di cose da non fare, non devo andare sul lago Trasimena a cercare un paio di occhiali che ha perso il mosto di Loch Ness, l'unica sera che è uscito fuori dal suo lago, ma stai attento, ne metti la roba dai, non devo tornare sui miei passi che molti non mi ricordo neanche più dove li ho messi, non devo andare orgoglioso, quindi non devo neanche tornare orgoglioso e mi evito un viaggio di ritorno, non devo assolutamente sposarmi con Giselle, Hanno, Marielle, Cotouran, Zavon, Le Biche, Contouma, Lucien, Fala, De La Doron, Per Horan, Horan, si chiamava Perlan, Horan, De Lucien, Horan, Enfala, De Nasale, Conrerelle, si chiamava Lucien, il suo nome era Zizien Zazu, Horan, Lala, Fufushi, Unien, Foro, perché l'aveva promesso a suo padre che è morto schiacciato dalla lettera della tomba attaccata male, che se si chiamava più corto probabilmente si salvava, no, di cose da non fare, non devo diventare un piromane, solo per il gusto di dire durante una telefonata ti lascio che ho mia sorella sul fuoco, ciao, grazie, ne ho di cose da non fare, non devo dire a un eschimese culetto gelato, il glu che si è squagliato, ma soprattutto non devo continuare a fare una cosa all'infinito. grazie 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 Grazie.